Questa volta credo di essere davvero d'accordo con il film. Arthur Fleck non è Joker. La recensione di oggi si dividerà in due parti, la parte senza spoiler iniziale, poi dopo un avvertimento si passerà agli spoiler, ma appunto sarete avvertiti, quindi potrete lasciare il video nel momento che più preferite. Il mio pensiero riguardo il primo film è cambiato con il tempo. Al cinema mi piacque tanto, ma poi passando appunto acqua sotto i ponti e crescendo anch'io un po' a livello critico, quel poco comunque, mi son reso conto, almeno personalmente, che è un buon film, continuo a credere che sia un buon film, ma non è assolutamente un film su Joker, per niente. E questo sequel ancora di meno, ma a questo punto credo che sia una cosa abbastanza voluta. Non solo qui non abbiamo un Joker che non è Joker, ma abbiamo anche un Harley Quinn che non è Harley Quinn. E questa secondo me è una pecca, perché credo che abbiano inserito qui Lady Gaga e tutta la parte musical solo per distanziarsi un po' dal primo film, perché in fin dei conti racconta la stessa storia. Ambientazioni un po' diverse, sì, forse c'è anche un po' meno da raccontare in questo sequel. E quindi è proprio per questo che hanno inserito questa costante del musical e delle canzoni, che parte in realtà dopo un po'. All'inizio sembra un film come il primo, senza musica, anzi appunto inizia ad esserci la musica quando in scena appare il personaggio di Lee Quinzel, qui chiamata così, ma è appunto comunque anche per la sua backstory in qualche modo proprio Harley Quinn. E a me questo film faceva paura, non tanto perché un musical, nonostante io non sia grandissimo fan dei musical, ci sono diversi musical nella lista dei miei film preferiti, come The Greatest Showman, La La Land, Sweeney Todd, The Nightmare Before Christmas e comunque molti dei film Disney classici che sono dei musical, quindi se anche voi apprezzate dei film come Il Re Leone, Il Re Leone è un musical, animato ma è un musical. Per lo più avevo paura per le reazioni che il film aveva avuto a Venezia. Molti l'hanno già visto a settembre e non aveva convinto tantissimo neanche le persone che avevano amato il primo film. Quindi io comunque avevo un misto di paura, molta più paura e curiosità. Volevo assolutamente vederlo. Personalmente non credo che questo sia un brutto film, nonostante il mio voto su Letterboxd, che comunque sono abbastanza vaghi quei voti, non fateci tanto caso, è solo per il gioco così momentaneo delle stelline. E poi è anche la mia prima visione, magari con altre visioni il mio parere cambierà, ma appunto nonostante il mio voto fosse di 5 più o meno, perché sono due stelle e mezzo, ma diciamo che tende più al 5 e mezzo, quasi 6, non credo appunto che sia un brutto film. È guardabile, forse un po' pesante perché due ore e mezza sono veramente tante. Adesso non ricordo quanto durasse il primo, ma qui ho veramente tanto sentito le due ore e venti, quante sono, quasi due ore e mezza di film, perché ci sono tantissimi momenti morti, almeno per quanto mi riguarda ho avuto dei momenti di stacco totale dal film. E momenti abbastanza lunghi, hanno inserito poi appunto le parti musical cantate, degli stacchetti musicali tra un atto e l'altro, ma non so, in realtà anche più frequentemente, non lo so, forse per dividere un po' il film in qualche modo o allungare il brodo, potrebbe anche essere per quello. Ho avuto anche l'impressione che un sequel di Joker non era previsto all'inizio, come era stato detto infatti. Magari nemmeno Todd Phillips o Joaquin Phoenix volevano realizzarlo, solo che sono stati convinti naturalmente da Warner che, dopo il miliardo con il primo film, ha sganciato qualche altro milioncino e li ha convinti tranquillamente. Però ho sentito un po' di svogliatezza da parte di, almeno Joaquin Phoenix, che è stato abbastanza bravo, ho visto il film doppiato, quindi non posso giudicare al 100% la sua recitazione. Nonostante questo, comunque, Joaquin Phoenix, non stiamo parlando sicuramente di Napoleon, quindi almeno a livello di espressioni, che è quello che posso giudicare per ora, è stato abbastanza bravo. Sicuramente sopra le righe, ma è questo il personaggio che deve interpretare, quindi non capisco perché criticare questo essere esagerato nella recitazione se è proprio la caratterizzazione del personaggio. Quella che mi ha convinto meno è proprio Lady Gaga, che secondo me non è una cattiva attrice, assolutamente. Però ho trovato la presenza del suo personaggio quasi inutile, soprattutto il modo in cui si chiude il suo personaggio. Ho cercato di capire in qualche modo quel suo finale, cercava di essere magari un po' filosofico in qualche modo, non lo so, però è stato abbastanza anticlimatico, anzi il film è pieno di momenti anticlimatici. Magari è una cosa fatta apposta? Potrebbe anche essere, perché anche gli stessi momenti musical sono un po' fuori posto. Una cosa però effettivamente vorrei apprezzare di quei momenti. Lì vediamo il Joker che mi sarebbe piaciuto vedere per entrambi i film. Sotto certi punti di vista il vero Joker è non Arthur Fleck, perché qui abbiamo un Arthur Fleck che, tra l'altro nel rapporto con Harley Quinn, sembra essere lui quello sottomesso, quando sappiamo invece, almeno nella storia originale, nel vero rapporto che hanno i due personaggi, quella proprio sottomessa ed è questo appunto il bello nel marcio del loro rapporto, è proprio Harley Quinn, che farebbe realmente di tutto, per Joker che non si cura minimamente di lei, anzi la maltratta pesantemente. Qui sembra che è Lady Gaga ad avere i pantaloni nella coppia, che ok, comunque potrebbe anche starci, è una reinterpretazione, però questi sono ancora meno Joker e Harley Quinn, almeno nel rapporto di Margot Robbie e di Jared Leto. Sì, lì c'era l'amore, cosa che non c'è assolutamente nel rapporto tra Joker e Harley Quinn, ma quantomeno Harley era sottomessa a Joker. Qui appunto un po' il contrario. Il film inizia tra l'altro con un piccolo corto animato in stile Looney Tunes, che mi è piaciuto anche se non ho capito tantissimo il motivo, se non per una piccola frase di ritorno, diciamo nel terzo atto, un comeback a livello di dialoghi, e sì, effettivamente anche un po' quello che viene rappresentato nel corto è ciò che il film vorrebbe farci capire. Nel rapporto Arthur Fleck-Joker, il fatto dell'ombra, però ho visto molte persone stizzite da questo inizio, come anche dai diversi momenti musicati, anzi cantati. Dico, almeno per i momenti musical non ci voleva tantissimo da andare a cercare in giro questa informazione. I trailer cercano in qualche modo di nascondere questa parte del film, nonostante in uno dei trailer sia anche presente la scena musical con la canzone Folia Dei, se non sbaglio si chiama così, e dietro la scenografia con la luna enorme. Non so voi, ma a me la luna ricorda solo una cosa. Da oggi grazie a Di Agostini potrete avere il vostro E.T.A. a casa costruendolo pezzo dopo pezzo. È la replica dell'originale, alto 65 cm realizzato in PVC, AVS e metallo. Muove e illumina diverse parti del corpo come il viso, le braccia, il collo, il cuore e il dito. E non solo, perché può anche riprodurre le frasi iconiche del film. Come solito di Di Agostini, con ogni uscita avrete anche un fascicolo con le istruzioni e tantissime curiosità e storie sul personaggio e sul film di Spielberg. Per esempio, sapevate che per il design del personaggio erano stati presi tantissimi modelli, compreso il volto di un gatto? Abbonandovi online alla collezione, ogni uscita vi arriverà comodamente a casa e potrete tenere d'occhio le spedizioni e lo stato dell'abbonamento. In più per voi, solo con l'abbonamento online, vari regali esclusivi come l'ombrello, il notebook, tre poster, la targa metallica e la tazza. Pagando inoltre con PayPal si aggiunge un regalo, ovvero la t-shirt personalizzata. Trovate il link per abbonarvi in descrizione, mi raccomando, usate il codice ET Italia per far sapere che siete passati da qui. Continuando con la recensione, in ogni caso il film a livello tecnico non è assolutamente male. Ci sono delle scene che visivamente mi sono tanto tanto piaciute, anche se i momenti musical secondo me sono poco ispirati. Si poteva fare tanto tanto di più, ma questo, come in generale le parti musical, ma anche il corto iniziale, diversi momenti nel film, a questo punto credo che fossero voluti così tanto anticlimatici e poco interessanti, non saprei come definirlo bene. Quindi ripeto, il film in generale a me non è dispiaciuto affatto. Il finale posso anche dire che mi è anche piaciuto. È sicuramente inaspettato nonostante ci siano tantissimi punti in comune con il primo film. È più o meno lo stesso finale, possiamo dire così, anche con le stesse frasi. Non ciò che accade, naturalmente, ma ciò che significa. Solo che appunto non mi ha convinto tantissimo la chiusura che ha il rapporto Joker-Harley Quinn. Arthur-Liquinzel. Ancora meglio. Ragazzi, se ancora non avete visto il film, vi invito a lasciare il video di oggi perché gli spoiler inizieranno fra poco. Prima di chiudere, comunque, vi invito a seguirmi su tutti gli altri social. I link sono nella descrizione. C'è anche il link di Pampling, codice Il Pensiero 4, per un paio di calze gratis a scelta. C'è anche il link dell'abbonamento per costruire il vostro ET, uscita dopo uscita, grazie a Di Agostini. Ma adesso passiamo alla seconda parte con spoiler, quindi se non avete visto ancora il film, uscite dal video. Allora, come primissima cosa vorrei parlare del corto iniziale animato in stile Looney Tunes che io ho apprezzato in sé. Anche un po' per ciò che effettivamente significa all'interno del film. L'ho trovato un po' anticlimatico, ripeto questo termine, però penso si sia capito il motivo, si sia capito il significato, appunto. È arrivato a questa conclusione, credo ci possa anche stare. Parlando in realtà sto un po' rivalutando il pensiero che avevo dopo l'uscita dalla sala. In positivo in questa volta, pochissimo, forse lo promuovo con la sufficienza piena. Ho apprezzato appunto il fatto che Arthur Fleck in realtà è l'ombra di Joker o Joker è l'ombra di Arthur Fleck. C'è questo binomio con due personaggi differenti all'interno del film, non c'è un solo Joker. Anzi, Joker è probabilmente solo un concetto. Qualcosa di esistente ma di astratto e allo stesso tempo anche inesistente. Lo dice anche Arthur Fleck alla fine, Joker non esiste, è solo fantasia. E questa cosa ovviamente a Lee Quinzel non piace perché lei voleva solo Joker, non voleva Arthur Fleck. Infatti credo che lei alla fine sia comunque già abbastanza pazza di suo. Prima di diventare Harley Quinn non diventerà mai Harley Quinn in realtà. Non capisco neanche tantissimo il titolo del film, Follia Day, che è una patologia esistente ma non avviene all'interno del film, non c'entra assolutamente nulla. Follia 2 ma non c'entra effettivamente con la patologia esistente. E dicevo che una delle cose interessanti dei momenti musical, una delle poche interessanti di quei momenti, è il fatto che lì vediamo il vero Joker, ovvero quello che mi sarebbe piaciuto vedere nel primo e nel secondo film. Quello che pensa a se stesso, infatti nel momento in cui Harley inizia a cantare verso il pubblico, lui dice No, tu sei attratta da me, tu devi stare sotto di me in questo senso, sotto messa a me, stai cantando per me, devi amare me. Che non c'entra tantissimo effettivamente con il rapporto che hanno i due personaggi nei fumetti, nei cartoni, perché ricordiamo che Harley Quinn è un personaggio originale della serie animata, però sicuramente è più simile a quel rapporto di quanto non lo sia nell'intero film. Anche nel momento in tribunale, nel sogno, nella testa di Joker, di Arthur Fleck in realtà, lì vediamo Joker che uccide praticamente tutti e... Quello è Joker. Anche nel trailer si vedeva la scena in cui Joker spaccava la testa al giudice con il martello e io già immaginavo che questa scena fosse solamente nella sua testa, cosa che effettivamente è stata. In questo film, si vedeva già nei trailer, c'è Harvey Dent, che non è due facce, non diventerà mai due facce, non sapremo mai se diventerà due facce, qui effettivamente c'è un riferimento al suo personaggio fumettistico, quando scoppia la bomba in tribunale lui ha solo metà faccia rovinata, nemmeno così tanto, in realtà ha qualche graffietto, però inquadrano quel momento come riferimento evidente a quel personaggio. E parlando appunto della bomba che esplode, effettivamente è la stessa cosa che accade all'interno del primo film, quando i rivoltosi organizzano l'incidente con la volante della polizia per salvare Joker, comunque il momento che è diventato abbastanza iconico nel primo film, di lui che si mette il sorriso con il sangue. È più o meno la stessa cosa anche se qui Arthur Fleck, avendo probabilmente accettato il fatto che non è Joker, perché Joker è appunto un concetto, qualcosa di astratto, in questo film, in questa saga, in questo Elseworld, non accetta poi così tanto l'aiuto di rivoltosi, infatti scappa, perché lui è interessato solo al suo amore, amore che non esiste realmente, perché appunto Harley Quinn, Lee Quinzel, la chiamo Harley Quinn, ma non viene mai chiamata in questo modo in realtà, apertamente, lei è innamorata di quel concetto, non di Arthur Fleck, non del vero Joker, vero tra virgolette, siamo sempre lì, perché Arthur comunque essendo matto, infatti fa un po' strano il fatto che non gli riconoscano questa malattia mentale, è evidente, è evidentemente malato, non so perché, lo abbiano comunque condannato a morte, lui essendo in queste condizioni non capisce, perché tutte queste persone a Gotham lo acclamino così tanto, a lui non interessa essere un simbolo in quel senso, lui cercava semplicemente qualcuno che lo volesse bene, qualcuno che lo ammirasse, ma non a questo livello sicuramente, in realtà lui non è che freghi tantissimo di quasi nulla. Passando al finale, a me, ripeto, è piaciuto, inaspettato, non mi sarei mai aspettato che lui alla fine morisse, o comunque venisse accoltellato, non si sa se è morto, ma credo di sì, e anche se è più o meno simile al momento dell'uccisione dei Wayne, con tanto di frase ripresa dal primo Joker, ecco, io l'ho comunque apprezzato, perché noi sì vediamo questo carrello che si avvicina verso il corpo morente di Arthur, verso la fine, ma dietro, sfocato, in secondo piano abbiamo quello che lo uccide, che mi sembra si stia tagliando la bocca con lo stesso pezzo di vetro che ha usato per uccidere, o comunque si stava facendo il sorriso con il sangue che era su questo pezzo di vetro, comunque stava diventando Joker, ridendo anche. Quindi mi piace pensare che effettivamente, in quel modo, Arthur Fleck ha creato Joker. E possiamo vederla sia nello specifico, in quanto quello in realtà poi sarà Joker, che un giorno, io non credo che in questo Elseworld si andrà a creare un Batman, non credo che Bruce Wayne diventerà Batman, perché questi due film cercano in tutti i modi di essere il più realistici possibili, quindi uno normale, perché alla fine poi nemmeno Bruce Wayne è così tanto nella norma mentalmente, uno normale che si veste da pipistrello e combatte la criminalità non è una cosa poi così tanto realistica, quindi magari non ci sarà mai effettivamente neanche off-screen un Joker vs Batman. Però il fatto che quell'assassino di Arthur Fleck fosse più giovane intanto, molto più giovane di Arthur, e che alla fine appunto si stesse mettendo il sorriso, o tagliandosi le guance un po' in stile Heath Ledger, o semplicemente con il sangue di Arthur, mi fa pensare che appunto quello sia diventato il vero Joker, quel Joker che Arthur, almeno in questo film, si immagina di essere. E che non è. E questo film lo sottolinea, quindi in qualche modo si rettifica anche un po' il primo, il primo film del 2019. Al momento sono tutti consapevoli, sia all'interno del film che fuori dal film, spettatori, chiunque ci abbia lavorato, che quello non è Joker. Ripeto per l'ennesima volta, Joker è ciò che Arthur Fleck ha lasciato al mondo. Quello che lo uccide, quello che uccide i Wayne nel primo film, tutti rivoltosi, anche quelli vestiti proprio da Joker, qui vediamo un tizio proprio truccato e vestito dal look che Arthur aveva nel primo film, quello è Joker. Ciò che Harley Quinn amava, non Arthur. Far ridere che io abbia iniziato questa recensione un po' più negativo di quanto la stia finendo, perché comunque ora credo di promuoverlo un po' più di più in confronto al voto che gli avevo dato dopo l'uscita dalla sala. Ma ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Vi è piaciuto, non vi è piaciuto? I commenti sono liberi a tutti. Se volete fare spoiler, mi raccomando, segnatelo prima per non rovinare la visione a chi ancora il film non l'ha recuperato. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link, Instagram, TikTok e Letterboxd. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!